assistito allo schifo più totale perché si poteva chiudere un occhio in campionato dove tutte le squadre si mettevano a pecorina ma in Champions League no in Champions League no che al primo passo falso ti purgano, ti purgano, ti purgano, ti fanno 2-3 gol, ti fanno, io non so se lanciare fazzoletti, libretto delle giustificazioni io non so più che cazzo lanciare perché io vedere questa squadra non la voglio vedere, preferisco vedermi Don Matteo pomeriggio 5 con Barbara D'Urso cioè io preferisco vedermi tutto, tutto fuorché questa partita e questa Juve perché non è solamente questa partita che facciamo cagare anche le altre partite e io ho detto vabbè aspettiamo al momento cruciale della stagione il momento cruciale della stagione è arrivato e se la squadra fa cagare e allora non è un problema che nella seconda parte della stagione la squadra poi magari fa questo, fa quest'altro, no non abbiamo fatto un cazzo dalla prima partita fino a oggi fino a oggi, eh ma abbiamo fatto un secondo tempo buono, ma buono di sta grande ceppa di minchia che abbiamo giocato con Lione abbiamo giocato chi ha Lione? Aguar, Geppetto, Topolino, Minni, Pluto, chi cazzo ha Lione? di così forte, ditemelo, ditemelo, con l'allenatore Rudy Garcia, Rudy Garcia, Rudy Garcia che allenava la Roma, allenava, dai, ma di che cazzo stiamo parlando? poi mi dà fastidio quando difendono i giocatori spadatratte, anche i calciatori, non è solamente Sarri adesso anche i calciatori fanno cagare dal primo all'ultimo perché non mettono i coglioni in campo non è solo Sarri, ah autosario di qua, sarri di là, facile dare sempre la colpa all'allenatore come facevano l'anno scorso con Allegri, ma quest'anno c'è Sarri e diamo la colpa a Sarri ma che cazzo vi dice il cervello che sembrano donnine del cazzo dal primo all'ultimo Di Bala, Rona, tutti, tutti, non si salva nessuno, tutti, non si salva nessuno non si salva nessuno, difesa di merda, centrocampo di merda, tutto è una merda in questa squadra, tutto non si salva nessuno perché quando Ronaldo non è in forma non gioca nessuno in attacco non segna nessuno e io mi son rotto le palle di questa situazione qua, va bene? va bene? ok? ok? perché Di Bala, Quadrato, anche poi Quadrato, lasciamo perdere vabbè che posso dire tantissimi altri nomi prima di Quadrato, ma Quadrato mi ha davvero rotto le palle e bisognava dirlo, santi Dio, bisognava dirlo Pjanic che non azzecca un cazzo di passaggio Pjanic che deve rifare le scuole calcio per insegnare a questo cristiano i passaggi porca di una puttana Ronaldo che batte le punizioni e non le sa tirare non tirarle c'è Pjanic, c'è Di Bala, c'è Gesù Cristo non tirarle tu, mi hai rotto davvero la minchia ecco un cazzo di barriere poi anche l'arbitro, anche l'arbitro, anche l'arbitro, anche l'arbitro perché io, lo sapete benissimo, lo dico sempre in ogni video non mi piace parlare degli errori arbitrali però, però, santi Dio, se quello su Di Bala non era rigore ha fatto così, ha fatto ha fatto così, ha fatto e non è rigore quello e non è rigore dai e non è intervenuto nemmeno il VAR qua stiamo parlando di situazioni clamorose di situazioni clamorose i giocatori del Lione perdevano un sacco di tempo si buttavano a caso non lo so, fra un po' prendevano pure un caffè la cacciano, vabbè che in Francia il caffè fa cagare con me tutta la Francia fa cagare al cazzo e mi sento anche di dire cose extracalcistiche come la telecronaca non me ne frega nulla se la telecronaca è in favore della Juventus, della mia squadra non me ne frega nulla perché se Adani e Trevisani non sanno fare le telecroniche come gli altri telecronisti esteri cioè di parte cioè che, beh, non sono di parte perché i telecronisti italiani sono sempre di parte sempre, sempre e basta questa telecronaca di merda cosa vuol dire? c'erano Adani e Trevisani stanno facendo i tifosi della Juve ma fai il telecronista, cazzo sei giornalista non devi essere di parte parziale e invece no e invece no e invece no ovviamente che anche la telecronaca italiana è una merda perché devi essere cioè non devi essere parziale adesso mi viene in mente devi essere parziale non deve essere parziale ho da dire tutto il centro campo mi sono rotto le balle Bentancur che è il suo primo gol non è attento Bentancur quando deve giocare con il frosinone è grande pari di Bentancur è la partita poi quando arrivano le partite importanti si caga in mano si caga si caga in mano puttana Eva pure Alexandro mi ha davvero rotto i coglioni mi hai davvero rotto cioè non è possibile vedere Alexandro è l'anticalcio in questo momento Alexandro è l'anticalcio ma basta per favore ma basta ditemelo però ditemelo se tutte le partite che giocate devono essere giocate in questa maniera qua perché così non me le vedo direttamente e così passo la giornata in un'altra maniera oggi è mercoledì potevo vedermi qualcos'altro in tv o potevo direttamente non guardare la tv visto che oltre per il calcio la tv non la guardo perché ci sono certi personaggi che lasciamo perdere il peggio della Juve oggi in campo e non solo oggi ci tengo a sottolineare la Juventus di Sarri in questo momento ecco così però oltre ad adesso non ho detto nulla su Sarri però adesso Sarri Sarri Gesù Cristo mio Sarri Sarri ma non ne combini una giusta non ne combini una giusta anche Sarri anche Sarri ma ok che è che il Lione come cazzo si chiama quella squadra di merda il Lione ha vinto un a zero e quindi c'è più possibilità che al ritorno magari possiamo giocare meglio di prima e lo spero e lo spero Gesù mio adesso se non passiamo se non passiamo con il Lione che cazzo dobbiamo passare con il Real con il City se non riusciamo a passare manco con il Lione coronavirus vaffanculo rido per non piangere porca di una puttana rido per non piangere rido per non piangere niente niente veramente 1 a 0 non lo so fatemi sapere con un commento magari ho visto una partita diversa io magari ho visto una squadra di merda come sempre solamente io non lo so fatemi sapere con un commento